ciao sono fabrizio social visual merchandiser di vetrine e vetrine e oggi vi volevo parlare dell'utilizzo del fondale un argomento che genera un sacco di diatribe di discussioni di fraintendimenti sostanzialmente parlando di fondale abbiamo tre situazioni vetrina completamente chiusa quindi completamente tamponata da fuori guardando la vetrina non si vede nulla di quello che sta all'interno vetrina parzialmente chiusa e vetrina completamente aperta queste sono le tre modalità che ho a disposizione per le mie vetrine non esiste un'unica modalità efficace dipende innanzitutto dalla tipologia di punto vendita e dipende anche dalla rotazione con cui si vanno a fare le vetrine bisogna sempre ricordare una regola basilare nell'allestimento delle vetrine e nella comunicazione visiva in generale che è quella di non fossilizzarsi mai su uno schema che magari ha anche funzionato ma nella ripetizione troppo allungata va scemando e alla fine non ottiene non andrete ottenere più nessun tipo di risultato quindi la prima regola è non aver regole ovvero le regole le devo conoscere tutte anche molto bene in modo tale che qualche volta decido di trasgredirle e quindi di non applicarle alle mie spalle vedete la foto di un allestimento nostro un negozio di biancheria intima in particolare nara intimo dove abbiamo utilizzato vedete un fondale che chiudeva parzialmente la vetrina la chiudeva esattamente in corrispondenza del punto focale perché si usa questa tecnica perché il passante che viene attirato dalla decorazione dal motivo dalla composizione da quel qualcosa di grafico che attira l'attenzione della persona che sta passando davanti quella vetrina si soffermerà innanzitutto sul punto focale di conseguenza sul prodotto che io in quel momento voglio mettere in risalto rispetto a tutto quello che ho all'interno del punto vendita poi in seconda battuta quindi in quei famosi 40 secondi che il tempo medio che ognuno di noi dedica alla visione di una vetrina si potrà spostare in questo caso verso sinistra per sbirciare cos'altro ci potrebbe essere all'interno del punto vendita se ci sono altri colori altre situazioni che possono incursire talmente tanto da indurre a fare quel famoso passo che la cosa più difficile da far fare a chi sta fuori cioè quindi varcare la soglia ed entrare nel punto vendita vi faccio vedere altri esempi questo ad esempio qui siamo in un magazzino l'ingrosso del center gross è sempre un lavoro di vetrine vetrine qua ad esempio abbiamo utilizzato il fondale generato da una stampa della campagna pubblicitaria del momento abbiamo ricoperto più o meno un terzo dello spazio che avevamo a disposizione ma è sufficiente per creare quell'interruzione visiva in modo tale da catalizzare l'attenzione del pubblico sul prodotto altro esempio ancora siamo sempre in un negozio di intimo vedete qui ad esempio la struttura prevede sono quei due vetri sabbiati che vedete alle mie spalle due fondali fissi che non chiudono completamente la vetrina in questo allestimento noi abbiamo deciso di fare un solo punto focale esattamente al centro dove c'è lo spazio libero per vedere l'interno in questo caso dove sbircia il passante che si è soffermato sulla vetrina a destra e sinistra di quei vetri fissati dal celino direttamente alla base della vetrina anche in questo caso siamo sempre in una vetrina con il fondale parzialmente chiuso qui vi faccio vedere un altro allestimento ho preso a prestito da un bellissimo allestimento fatto dal nostro amico e collega maestro Tullio Smagnotto di espressioni e anche lui in questo caso non ha utilizzato il fondale nella versione ovviamente vedete serale comunque il fatto che l'interno del punto vendita sia spento comunque genera una sorta di pseudo fondale ma in ogni caso sempre per la regola di non aver regole ogni tanto il fondale posso anche non metterlo l'importante è che però all'interno del negozio sia pulito ordinato che non ci siano troppi elementi che entrano in contrasto con quello che ho messo in vetrina e ad esempio qua non vi ho messo nessuna foto della verità ma se pensiamo che so i department store come Selfridges, Coin, Aroz ad esempio loro hanno le vetrine completamente chiuse ma perché? semplicemente perché alle spalle delle vetrine generalmente ci sono prodotti che non centrano nulla con quello che c'è in vetrina e quindi la vetrina va assolutamente, l'allestimento va assolutamente isolato dal resto del punto vendita e si deve generare la curiosità di entrare e vedere il resto del punto vendita chiudo con questo allestimento ottica stellina, un negozio di ottica dove anche qua alterniamo gli allestimenti in cui montiamo il fondale ad altri tipo questo dove il fondale volutamente non è stato messo perché comunque il negozio è piccolo è sempre molto ordinato, non ci sono troppi elementi a vista che possono distrarre dalla visione e in questo caso con uno slogan di una campagna sociale, una vetrina che abbiamo fatto a luglio per sensibilizzare contro l'abbandono degli animali durante l'estate ci poteva stare anche un discorso che dall'interno si potesse creare un'interazione con la vetrina stessa quindi va valutato caso per caso, non c'è una regola fissa però mi raccomando quando il retro del punto vendita è particolarmente pieno di informazioni, colori, prodotti e pensiamo anche quando il negozio è aperto dove c'è il pubblico che gira che distrae sicuramente un minimo di fondale, anche un terzo dell'area a disposizione la vetrina chiusa in corrispondenza del punto focale è sempre un ottimo strumento per catalizzare maggiormente l'attenzione di chi sta guardando la vetrina io con questo vi saluto, vi ringrazio, vi consiglio di continuare a seguirci su tutti i nostri canali in particolare sul sito di VetrineVetrine e su tutti i canali social grazie ancora e buone vetrine a tutti grazie a tutti